Il Grenadiere ha voluto commercializzare il miglior 4x4 sul mercato. Gli autogruppo infatti ha deciso di iniziare con questo nuovo prodotto questa scommessa diciamo è una novità per tutto il mercato. Siamo stati contenti e lieti di partire anche noi tra i primi 7 agenti in Italia che distribuiranno questo prodotto. I punti di forza sicuramente sono le doti fuoristradistiche, le tecnologie appunto moderne applicate su un'idea di fuoristrada più tradizionale e sicuramente tutta la tecnologia che c'è intorno inteso motorizzazioni hanno scelto diciamo il meglio che il mercato poteva dare per questo prodotto. Mancava diciamo un prodotto con queste caratteristiche, mancava proprio sul mercato e abbiamo giunto volentieri questa novità. Quello che mi ha stupito di più forse è la prova su strada perché fuoristrada non avevo dubbi della bontà del mezzo, mi ha stupito positivamente la guida appunto su strada. La vettura viene commercializzata a partire dai 69 mila euro su strada per le vetture in versione autocarro fino a salire la possibilità di personalizzare la vettura come si vuole. Questa è una vettura veramente che ha una possibilità di personalizzazione incredibile. I nostri consulenti, Tommaso e Patrick, sono a disposizione di tutti i clienti per l'assistenza, per i consigli, per poter configurare la vettura insieme e per poter scegliere la miglior versione a seconda delle esigenze di ogni cliente. Come varianti al momento sono disponibili la versione autocarro e le versioni vettura che sono poi sostanzialmente due versioni. Una versione che la Trial Master è quella dedicata ancora di più al fuoristrada, mentre la Field Master è quella perché oltre al fuoristrada cerca un po' di stile, un po' di comfort. La vettura per ora potete solo vederla, ma a brevissimo potrete anche provarla e toccare con mano veramente le qualità di questa novità.